Leonardo DiCaprio, lo scapolo più incallito e ambito di Hollywood, è tornato con la sua ex fidanzata Tony Garn. Bellissimo di successo, impegnato nel sociale e affezionatissimo alla mamma, Leo non si è mai sposato, almeno fino ora. L'attore premia Oscar per The Revenant, però ha stupito tutti con un colpo di scena. Dopo flirt chiacchieratissimi e relazioni più o meno durature, ha riconquistato la modella tedesca, alla quale era stato legato tra il 2013 e il 2014. Pare che il motivo della rottura voluta da lei fosse una festa per i 40 anni dell'attore con 20 ragazze in una club della Florida. Ora però la lite sembra acqua passata e tra la modella e il sex symbol sembra essere giunto il momento di riprovarci. Dopotutto Tony Garn è il suo tipo, bionda, modella e bellissima. Ne ha collezionate parecchie negli ultimi anni e spesso le sue conquiste sono ragazze mozzafiato dal team di Victoria's Secret. L'ultima era stata la supermodella danese Nina Agdal, ma i due hanno interrotto la loro storia d'amore durata un anno lo scorso maggio. L'attore oggi 42enne, nel corso degli anni ha sempre avuto a suo fianco alcune tra le donne più belle al mondo. Proviamo a ricordarle tutte. La sua prima vera storia d'amore è stata quella con la modella Kristen Zhang. I due sono stati insieme dal 1996 al 1998. Storia intervallata però da una sbandata per Elena Kristensen, durata qualche mese nel 1997. Nel 1998, dopo essersi conosciuti a una festa a Parigi, in occasione del lancio del film La maschera di ferro, Leonardo DiCaprio e De Verzigova hanno iniziato una relazione durata non più di un paio di mesi. Oggi Giselle Bundchen è follemente innamorata del marito, padre dei suoi figli, il campione di football Tom Brady. Nel 2000 però la modella brasiliana aveva occhi solo per DiCaprio. L'idilio è durato fino al 2005, quando la Bundchen decise di interrompere la relazione stanca di attendere quella proposta di matrimonio che non arrivò mai. Nel 2005, a un party degli O2 a Las Vegas, DiCaprio conosce la modella israeliana Bar Raffaeli. I due si lasceranno nel 2011. Cinque mesi, invece, è la durata del rapporto tra DiCaprio e Blake Lively. I due erano stati paparazzati insieme su uno yacht a largo di Cannes. Qualche mese da single e poi riacca una top model. Nel 2012, Leonardo DiCaprio perde la testa per Erin Eaterstone, ex angelo di Victoria's Secret. Dieci mesi di passione e poi l'addio. Nel 2013, come dicevamo, è un altro angelo conquistare il divo hollywoodiano. Si tratta appunto della tedesca Tony Garn. Poco dopo è arrivata Kelly Roarkwack, ex modella di Sport Illustrated, e CJ Parker nel nuovo Baywatch. La bellissima è stata fidanzata di Leo per quasi tutto il 2015. Il 2016 è il suo anno. Leonardo DiCaprio vince il tanto agognato Oscar. Come miglior protagonista perde il Revenant. Nella corsa alla statuetta conosce la conduttrice del programma I'm a Celebrity, Laura Whitmore, che se ne invaghisce a tal punto da volerlo al suo fianco durante i festeggiamenti nel Post Academy Awards. Il dopo Oscar porta il nome di Chelsea Weimar. DiCaprio e la loro diciannovenne furono immortalati insieme nel marzo 2016 all'uscita del ristorante Nobu di Malibu. La durata del loro rapporto? Non più di due settimane. Poco dopo ad essere accostata al divo hollywoodiano è la modella britannica Roxy Horner. Secondo People, i due erano stati abbestati al serendipity di New York in atteggiamenti inequivocabili. A parte qualche eccezione, DiCaprio sembra avere le idee molto chiare sulla sua donna ideale. Le sue ex sono quasi tutte bionde e con gli occhi azzurri meglio se supermodelle. Tony Garn è tutto questo. Sarà la volta buona.